L'obiettivo dell'ASL di Bari è quello di organizzare grandi centri hub per le vaccinazioni anti-covid su larga scala, ma molti dei 41 sindaci dell'area metropolitana, pur essendosi organizzati, non hanno ancora ricevuto rassicurazione da parte dell'azienda rispetto ad un rimborso dei costi di spesa erogati dalle amministrazioni comunali. Durante una conferenza che si è svolta ieri in collegamento streaming, il direttore generale dell'ASL si è detto pronto a raccogliere le disponibilità dei sindaci per predisporre strutture idonee che si prestano da un punto di vista logistico e strutturale ad accogliere il maggior numero di utenti per accelerare i tempi della campagna vaccinale. Ma i primi cittadini anche su questo sperano che l'ASL dia un contributo logistico negli allestimenti. Campagna vaccinale che al momento procede a rilento non solo per le carenze delle strutture ma anche per le dosi a disposizione per il personale disponibile. Attualmente infatti sono 16.819 le dosi di vaccino anti-covid inoculate nella provincia barese, 11.000 sono state destinate agli over 80, oltre 4.000 agli operatori scolastici e 1.267 alle forze dell'ordine. Ogni forma di programmazione dipende dalla disponibilità delle dosi, ha chiarito l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, che però ha aggiunto come bisogna predisporre le vaccinazioni che da fine marzo saranno aperte da una fascia d'età più larga di popolazione, comprendente pazienti fragilissimi, servizi essenziali e persone divise per età decrescente. Per compiere tutto ciò servirà anche personale adeguato. Ecco perché l'ASL sta cominciando una campagna di reclutamento tra i medici sia su base volontaria che in pensione. Al momento tra i dipendenti hanno dato la disponibilità in 1.500 tra medici, infermieri, assistenti sanitari e personale amministrativo. Oltre a questi saranno messi in campo anche i medici di medicina generale che gestiranno le vaccinazioni domiciliari destinate agli over 80. In merito però un chiarimento è arrivato dal presidente dell'ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli. I medici hanno già dato la loro disponibilità, ha spiegato, ma ad oggi non risulta che nessuno sia stato autorizzato dalle ASL a svolgere attività presso i centri vaccinali. Per questo serve un modello organizzativo che prevede il coinvolgimento stabile dei medici di medicina generale per poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza e in sinergia con le altre componenti del Servizio Sanitario Nazionale. In ultimo Anelli ha chiesto alla regione di rendere noto quali e quanti vaccini si hanno a disposizione in modo da pianificare le tempistiche di intervento dei medici.